Il Comitato Cittadini e Lavoratori Liberi e Pensanti ha presentato la manifestazione al suo secondo anno, 1 maggio 2014 a Taranto. Il tema quest'anno è sia i diritti, no ai ricatti, futuro, ma quale futuro? La vocazione industriale di Taranto è un fallimento, è stato detto in conferenza stampa. I numeri dell'emergenza sanitaria sono impressionanti. Il nostro sforzo è proporre un'alternativa. La manifestazione, precisano gli organizzatori, è autofinanziata. Il Comitato fa appello ai cittadini per una piccola donazione. Tra i momenti di questo primo maggio a Taranto, nel pomeriggio il dibattito sui problemi ambientali del lavoro, poi il concorso destinato ai ragazzi, infine lo spettacolo tra gli artisti che parteciperanno, quelli locali nel primo pomeriggio, poi in serata gli after hours, i Sud Sound System, Paola Turci, Fido Guido, Mamma Maria, Diodato, tre allegri ragazzi morti. Potrebbero esserci anche altri nomi in campo. Il nostro sforzo, avete detto in conferenza stampa, è proporre un'alternativa a quello che è il modello di sviluppo della città. Sì, perfetto. Tant'è che il tema di quest'anno, a differenza di quello dell'anno scorso, l'anno scorso parlavamo lavoro, ma quale lavoro? Quest'anno è futuro, ma quale futuro? Quindi noi, onesto, adesso le nostre problematiche le abbiamo metabolizzate, le conosciamo tutti. Cerchiamo di incominciare a vedere oltre quali sono le alternative che può dare il nostro territorio, la nostra gente, le nostre idee, i nostri ragazzi, affinché ci siano delle alternative a quella che è la cosiddetta vocazione industriale di cui parlavamo prima. Ci abbiamo tante risorse che possono essere sfruttate, chiaramente con l'aiuto di tutti, perché noi facciamo le cose dal basso. Però noi, chiaramente, sfrutteremo l'1 maggio come un faro per illuminare, tra virgolette, queste nostre risorse, affinché tutta l'Italia non senta parlare soltanto di gamini, di cimine, di ilva, del brutto, tra virgolette, di malattie e quant'altro, che sono comunque purtroppo una parte importante della nostra realtà. Noi vogliamo dire, ragazzi, attanto, ci possono fare tantissime altre cose. In questa giornata in cui abbiamo i fari puntati sulla nostra città, noi li metteremo sul nostro bel banchetto, tutte queste cose belle, tutte queste risorse, tante che abbiamo contattato i ragazzi, c'erano i ragazzi delle scuole, gli stessi artisti che sposano la nostra causa, si faranno promotori e portavoce di queste risorse, di queste realtà. Fate un appello anche ai cittadini di Taranto per sostenere la vostra iniziativa che è precisata e autofinanziata. L'1 maggio è di tutti, non è del Comitato Cittadini, Lavoratori, Liberi e Pensanti, quindi tutti i cittadini lo devono sentire proprio e quindi devono contribuire alla loro realizzazione. Dato che è assolutamente autofinanziato, sottolineavano più volte questa cosa qua, quindi col contributo di tutti, siete tutti liberi di contribuire.